Non riesco più a vivere, dottore, da quando faccio la pubblicità alla *** vedo yogurt da tutte le parti, va bene? Ho parlato con un fermento, si può parlare con un fermento? Si può? Mi ha risposto, guardi un po'. L'altra sera vado a letto con un vasetto di yogurt bagno, mi sono fatto anche male. Vado a dormire e mi sogno Pippo Baudo che mi dice te lo do io il meritillo, capisce? Cosa devo fare io? Non si preoccupi, non è niente. Ah, grazie, grazie tante, dottore, mi è stato veramente di grande aiuto.